Ciao ragazzi, non potevo proprio registrare perché sto registrando un video perché è successo sta roba come potete vedere lì c'è una piramide non l'ho neanche fatto apposta, giuro non sono andato in creativa, questa qua è la vanilla come potete vedere qua c'è tutto questo qua perché c'era un fabbro e tutta sta roba non sapevo manco io, stavo girando per trovare casa mia ho trovato un altro villaggio non volevo registrare mentre lo trovavo ma ho visto lì la cosa allora ho detto devo registrare allora oggi ho registrato il titolo si chiama Trovo una piramide poi la casa ci andrò mentre non registro perché girerò a mezza isola e se faccio il video mentre lì c'è tipo un'ora e quindi non voglio di niente però vado a una piramide sperando di trovarmelo P delle selle smeraldi diamanti, quindi mi faccio full diamanti diamanti avete capito comunque qui c'è tutto potete vedere anche voi non c'ho torce sta cosa mi turba perché dove sono andate i torce? avevo delle torce non sapevo però bene che ce le ho tattica da pro che ho un po' di tutti proprio quella cioè questa è mela d'oro mi piace mi piace la mela d'oro la metto a posto delle rape un attimo queste le ossa ne prendo un pochino vabbè sì dai che mi piacciono le ossa le ossa servono sempre per i cagnolini poi qua uno smeraldo sempre una conoscria piena libro incantamento ha finito con l'acqua che è uno frangello degli approdi ed efficienza uno non so cosa metterlo ma sembra molto bello molto non ho niente 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 a dire la verità un'altra sella ma la sella di prima non me le fa mettere insieme non me le fa mettere insieme vabbè che cattivo gioco cattivista una scarsa bellissimo gioco e poi ovviamente prendo anche le tnt perché le tnt non si rifiutano mai e io raga lo so così quando qua qualcuno c'andrà non esploderà ma che pena che qualcuno già l'aveva trovata allora mi sono ripetito a me ne adoro in sto video sto video manco lo volevo proprio registrare perché non dava perché avrei voluto registrare il video adesso ah mio dio io non c'ho più blocchi non c'ho più blocchi qua questi e poi cos'è che raga buttiamo cosa si butta? bella idea questo ok va bene questo qua questo qua sto prendendo tutto nel momento che noi sciogliamo sciogliamo se l'ho beccato eh che pareva comunque per adesso io alla fine l'importante che ho trovato la piramide preferivo trovare qualcosa di più tipo 23 piramide non scherzo sta piramide mi basta e mi avanza poi a cada mia ci torno con lag bug e roba del genere ok non scherzo io no ok quello lì è lo stesso villaggio ma ne ho subito controllare perché se no è lo stesso villaggio basta cioè siamo ricchi tanti che da problemi manda un panino e per me sa che per sto video possiamo concludere qua per lasciare like perché i miei amici si sono iscritti e questo qua che ha dato la forza di trovare la piramide poi cada mia ci tornerò non in video non so però se il gatto proprio il gatto abbiamo già perso povero gattino sì perché ho preso anche un gatto ma lasciate stare poi il cane avete presente il cane che noi ci abbiamo lì che non l'avevo preso in video ma comunque un cagnolino ed è nostro come lo possiamo chiamare io non a me vorrei chiamarlo con un bel nome quindi non scrivete per favore tipo janjuvring perché io lo vorrei chiamare in verità rambo se a voi vi piace bene scegliete voi a me piacerebbe molto rambo a me piacerebbe